Che vi dico per essere concreti? In chiesa ci puoi andare la messa, basta andare una panca sì, una panca no e due soli per panca. A quel punto il metro di distanza c'è il garantito. Le chiese rimangono aperte, le celebrazioni vengono effettuate, ma ovviamente con tutte quelle accortezze che sono state indicate dunque all'interno delle chiese, niente acqua santiera, niente scambio della pace, distanza di sicurezza tra coloro che siedono nelle panche, così si vive la fede al tempo del coronavirus. Il nuovo parroco di Lepoggiola, Chiani e Ruscello inizierà il suo ministero con una celebrazione all'aperto, mentre la stazione quaresimale di Santa Margherita a Cortona non prevederà la presenza del pubblico. L'arcivescovo di Arezzo Cortona e Sansepolcro Riccardo Fontana ha anche inviato una lettera a tutti i fedeli della chiesa aretina per tranquillizzare e per ricordare che uniti si vince. Avere la fortezza di resistere ai momenti di difficoltà, speriamo che la gente intenda che bisogna essere adulti, perché se no sbandiamo anche i ragazzi. Poi bisogna essere giusti, non approfittarsi di questa situazione di difficoltà, bisogna essere prudenti, rispettare le norme che ci hanno dato e bisogna essere capaci di attenzione verso gli altri. Le cerimonie, quindi previste i sacramenti, dopo la quaresima, le cresime, le comunioni, c'è un punto interrogativo, ma per ragioni ministeriali? Amici, vediamo che, no, per ragioni ministeriali anche la chiesa sarebbe essere prudente. Ora, vediamo che succede di qui a un mese, io non lo so. Sono tante le domande che si fanno i fedeli in questo periodo storico così particolare come, ad esempio, quello che potrebbe succedere nel caso di un funerale. Per i funerali, ora, speriamo che stia tutti buoni, no? Che ci sia il minimo dei morti possibili, però quando ci sono i morti, io credo... Dunque, i morti, senz'altro, si fa rito funebre, senza complicazioni. Poi la gente avrà anche il buon senso di farsi vivi con i parenti e con gli amici. E va bene, questo fa parte della cultura normale del nostro popolo, insomma, ecco. E siccome la vita vince sempre, anche al tempo del coronavirus, c'è chi deve battezzare la sua bambina il prossimo 14 di marzo. Lo farà, seppur con tante accortezze. Beh, sicuramente le indicazioni sono quelle di mantenere le distanze di sicurezza, quindi cercheremo di seguire il dettame di una panca, se una panca hanno due per panca, quelle in cui ci si può sedere. Cercheremo di limitare, ecco, il numero effettivamente delle persone che verranno alla celebrazione ai parenti più stretti. Però la vita vince sempre. Sì, la vita soprattutto va avanti e Livia ormai se la merita questa festa.